buonasera a tutti gli atleti di mtc oggi verrete messi alla prova con un gioco divertente che tirerà fuori la vostra attitudine da vincenti vi abbiamo appena distribuito una scatoletta contenente un biscotto e un punteruolo il vostro obiettivo è quello di ritagliare la scritta impressa sul biscotto se il biscotto si spezzerà durante il procedimento sarete eliminati dal gioco chi vincerà lo scopriremo solo giocare il gioco si è concluso volete sapere chi ha vinto è stata una vittoria di squadra a triunfare è stato il centro maria letizia verga di monza che si occupa della cura e della ricerca per la leucemia del bambino ed ha ricevuto un contributo da dmtc e da noi atleti per gli investimenti per portare avanti la ricerca e tutti i loro lavori a Grazie a tutti.